È tornata l'Aquila d'Oro, la storica pizzeria di Corso Principe Amedeo a Cava dei Tirreni. Vieni all'Aquila d'Oro, una tradizione che si rinnova! Continuano gli interessanti appuntamenti firmati in Rotary Club di Cava dei Tirreni. Domenica 28 gennaio, l'ottava edizione delle Domeniche della Salute, si dedicherà allo screening dell'ambliopia, ovvero il cosiddetto occhio pigro nei bambini e del glaucoma negli adulti. La seconda tappa del progetto, ideato dal Rotary Club dunque, punta l'attenzione su due patologie che possono causare gravi danni alla vista. Appuntamento a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 13, presso la sede del Centro di Radiologia e Terapia Fisica, sita a Cava dei Tirreni, in via Onofrio di Giordano numero 15. Questa volta ci interessiamo anche dei bambini, c'è lo screening per il glaucoma degli adulti, ma c'è anche per i bambini lo screening dell'occhio pigro, il cosiddetto occhio pigro o ambliopia. Quindi andiamo avanti, però prima di concludere io vorrei ritornare un momento indietro. Per dire che il primo appuntamento, cioè lo screening della Mammella, ci ha soddisfatto veramente, spero che abbia soddisfatto anche gli utenti, perché questa volta abbiamo addirittura sforato il numero delle visite. Parliamo di visite quasi vicine a 100 e altrettante ecografie, quindi con un servizio ancora più completo, perché oltre alla visita c'è stato anche un esame diagnostico utile per arrivare a una diagnosi. I risultati saranno dati poi alla fine di tutta l'edizione. Si tratterà di fare la prevenzione per due malattie che non danno sintomi, questo è il problema, perché il glaucoma, che è una malattia molto diffusa, soprattutto nella nostra zona, intorno al 6% della popolazione, la gran parte dei pazienti non sa di avere questa malattia perché non ha nessun sintomo. La malattia provoca danni irreversibili. E lo stesso si verifica nei bambini con l'ambliopia, cioè con l'occhio pigro. Il bambino con l'occhio pigro ha un occhio pigro, ma l'altro è normale. E per questa ragione le mamme e i padri non se ne accorgono. Quindi questa prevenzione mi sembra particolarmente utile, perché altrimenti buona parte di questi pazienti non se ne accorgerebbe in ritardo. E questo diventa poi un danno non rimediabile. Ricordiamo infatti l'importanza della prevenzione. Quanto è importante? È fondamentale perché voglio dire l'ambliopia si è presa prima dei 6 anni di età, può essere risolta con delle terapie adeguate, quindi con vendaggio, può recuperare e portarsi una buona visione per tutta la vita. Al contrario, se il bambino non viene controllato, può arrivare al controllo in tarda età e quindi non essere irreversibile, il processo non essere controllato. Quindi diciamo che è fondamentale questa prevenzione. Siamo a disposizione. Penso che questa volta, perché gli adulti sono sempre un po' più restii, invece le mamme, quando si tratta di controllare i bambini, sono più disponibili. Quindi pensiamo di avere un'affluenza maggiore, anche perché veramente la prevenzione in questo caso è tutto. Superata la certezza, questo bambino avrà un danno irreversibile. E francamente è un peccato, insomma. Grazie. Grazie. Grazie.